Allora, credo che in questa situazione possa essere facile etichettare, quindi già il fatto che si possa parlare di baby gang è già un bel mark che si dà a questo tipo di gruppo di ragazzi. È vero, come ci si può immaginare, che nella fase dell'adolescenza il gruppo è qualcosa di molto importante, per cui i ragazzi si sentono nell'insieme, quindi nel gruppo, più forti. Questo sicuramente c'è. Da qui andare a parlare di baby gang mi sento di stare un pochino più leggera. Dall'altro lato credo che un episodio come questo, sicuramente è un episodio che punta l'accento su qualcosa di importante e di serio, vada comunque considerato come tale, quindi come espressione di un bisogno, come espressione di un malessere e come comunità. Prima di tutto, proprio noi che stiamo qui e che da ascoltatori abbiamo sentito questa notizia possiamo chiederci e dobbiamo, più che possiamo chiederci, dobbiamo chiederci che cosa c'è dietro, qual è il malessere, qual è il bisogno, perché arrivare a un gruppo di ragazzi che arrivano a fare un atto del genere significa che c'è qualcosa dietro. Quindi non mi sento di etichettare, ma mi sento di andare al di là del fatto, in sé per se comunque un fatto da tenere in considerazione, quindi grave, e di andare a vedere cosa c'è dietro. Questo quindi come monito per noi che ascoltiamo come comunità, anche per i genitori di questi ragazzi, chiediamoci che cosa c'è, che cosa ci sta dietro.